In nomine Patris, et Filius, et Spiritus, Santus, Amen. Carissimi amici e cari fratelli nella fede. Come sapete, lo scorso sabato 18 gennaio, secondo il Beto Sordos e la festa della Cateda di San Pietro, si è svolta la terza access ordinata a Monaco di Baviera, perché la conferenza episcopale tedesca, come sapete, ha avviato il cosiddetto cammino sinodale della Chiesa Cattolica in Germania per portare a termine le riforme che sono state decise nel recente sinodo straordinario per l'Amazzonia. Doveva essere un sinodo straordinario territoriale, diciamo, per una determinata zona del pianeta, invece i vescovi tedeschi vogliono che anche in Germania si facciano quelle cosiddette riforme, quelle rutture che apparentemente sembrerebbero pastorali, ma che sono dottrinali, portano l'apostasia. Al termine di questo breve video reportage potrete seguire, ovviamente se vi interesserà, la mia personale testimonianza che ho videoregistrato la sera del 18 gennaio nella mia cameretta di albergo. Dorotea, la nostra carissima L.D. Caterina 63, non ha potuto essere presente per inderogabili impegni familiari, ma non è rimasta con le mani in mano, perché come potete vedere anche nei link nella descrizione di questo video, ha pubblicato quasi in tempo reale alcuni filmati dell'accesso ordinata e anche i pdf degli interventi delle personalità che sono intervenute nella conferenza stampa a seguito dell'accesso ordinata. Per me è stata una bellissima giornata, veramente molto speciale. Ho incontrato e rincontrato personalità che avevo già incontrato e conosciuto altre personalità, per esempio Roberto De Mattei, José Antonio Ureta, Michael J. Matt de Remembat, John Westen di LifeSite News e tanti altri personaggi. Alla conferenza stampa, tra l'altro, ho avuto modo di conoscere anche il famosissimo Marcantonio Colonna, Sir Henry Sire, l'autore del Papa Dittatore, un gentiluomo anche lui di altri tempi, un fedele cattolico. Ho conosciuto anche Alexander Sturzel, spero di averlo pronunciato bene, il ragazzo che ha buttato nel Tevere la Pachamama. Questa volta però non ho potuto fare delle interviste perché, come sapete, alle 15, al termine dell'accesso ordinata, questa preghiera silenziosa che termina col canto del credo, è stata diffusa la notizia che fra i presenti rivierà anche Sua Eccellenza l'arcivescovo Carlo Maria Viganò e l'attenzione è andata giustamente a lui. Ho avuto modo di poterlo conoscere e dirgli grazie per il suo amore alla Chiesa, la sua fedeltà a Gesù Cristo. Non avendo però potuto fare interviste, ho così approfittato per fare un guestbook, un libro degli ospiti. Sono riuscita, come potete vedere in sovrappressione, ad avere varie firme di amici, personalità e conoscenti che erano lì alla Odeonplatz di Monaco di Baviera per pregare silenziosamente per la Santa Madre Chiesa e anche per i nostri pastori, perché vedete ci sono state anche il 17 la sera e il 18 la sera due cene per i presenti, insomma ci siamo ritrovati a cenare insieme. Ho parlato con tante persone e vi posso assolutamente dimostrare che non ho sentito né odio né disprezzo nei confronti di Papa Francesco e dei Vescovi che seguono la corrente progressista che sta portando la Chiesa o che vorrebbe portare la Chiesa a cedere al mondo ancora una volta e definitivamente questa resa che è cominciata col Concilio Ecumenico Vaticano II. In quell'ora di silenzio abbiamo pregato, abbiamo meditato per la Chiesa, per il Papa, per tutti i Vescovi, per tutti i nostri pastori, perché il cattolico non può essere mai contro il Papa, ma possono esserci cattivi i Papi e in quel caso che si deve fare? Si deve resistere, come fece San Paolo con San Pietro, ed era San Pietro. Questa non è insubordinazione, non è di senso, non è disobbedienza la resistenza, la vera resistenza cattolica, ma è fedeltà alla Santa Madre Chiesa, la sposa mistica di Gesù Cristo, perché non si è cattolici per il Papa, per i Vescovi, ma non si è per Gesù Cristo. Comunque io adesso vi lascio alla mia personale testimonianza, ovviamente se volete ascoltarla, e spero che alle prossime acesse ordinate, perché purtroppo la deriva sta andando molto velocemente, anche se è ovvio che meno velocemente di quanto si aspettassero nel 2013 i cardinali che hanno eletto Papa Francesco, perché lo Spirito Santo lavora, lavora in silenzio, ma lavora. Laudetur Iesus Christus, Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Laudetur Iesus Christus, Ave Maria. Cari amici e cari amiche, scusate parlo a voce bassa perché sono in albergo, quindi non posso usare un tono di voce troppo alto. Sono a Monaco di Baviera, oggi è il 18 gennaio 2020, è la festa della Catedra di San Pietro, e mi trovo a Monaco di Baviera perché ho partecipato alla terza accessa ordinata organizzata dalla Fondazione Lepanto e da altre organizzazioni cattoliche in difesa della vera fede e della Chiesa Cattolica stessa. È stata davvero una bellissima esperienza. La nostra cara Dorotea non ha potuto partecipare per impegni familiari, indelogabili, quindi assente e giustificata. Come vi dicevo è stata davvero un'esperienza bellissima. Ho potuto incontrare nuovi amici, fratelli della fede, ho potuto anche rincontrare invece altri amici, altre importanti personalità, fratelli comunque nella fede, che stanno dedicando tutta la loro vita alla Chiesa Cattolica e quindi a Gesù Cristo. Naturalmente mi riferisco al professor Roberto De Mattei, al professor Antonio Ureta, l'autore del cambio di paradigma di Papa Francesco. Questa volta però non sono riuscita a fare interviste perché c'è stata un'importante presenza all'Access ordinata di oggi che ha, diciamo, praticamente occupato tutta la nostra attenzione, non soltanto la mia ma di noi presenti, chi ha avuto la fortuna, la grazia, di riconoscerlo. Sto parlando di Sua Eccellenza, l'Arcipescovo Monsignor Carlo Maria Viganò. È stato oggi presente con noi, ha pregato con noi in quest'ora, dalle 14 alle 15. Comunque ho fatto qualche filmato, qualche foto, poi lo vedrete, non di Monsignor Viganò. Abbiamo rispettato la sua richiesta di non essere filmato, fotografato. Parlo dell'Access ordinata e di altre personalità di cui ho parlato, oltre al professor Di Mattei e al professor Ureta. Comunque è stato davvero un bellissimo incontro, un bellissimo dono del Signore poter conoscere questo suo fedele servitore. Ecco, mi ha dato l'impressione di essere un uomo che soffre, che soffre molto ma non per sé, per la Chiesa, per la Chiesa che lui ha amato, ha dato e sta dando la vita. È un uomo di Dio che ama anche il papato. Così come tutte le persone, vi dicevo, che erano oggi in piazza a pregare per la Chiesa, per la nostra Santa Madre Chiesa, che tutti amiamo e dobbiamo amare. Le ACS ordinate che vengono organizzate, come già vi dicevo, nelle volte precedenti, a cui anche Dorotea fu presente, sono proprio un gesto, un atto di amore alla Chiesa, di fedeltà alla Chiesa e a Gesù Cristo. Nei prossimi giorni poi farò un montaggio video, anche delle foto, farò un fotoalbum e magari anche un resoconto scritto, perché no, di questa bellissima giornata. Ho partecipato anche alla conferenza stampa che è seguita all'ACS ordinata, ho avuto modo di parlare, come vi dicevo, con persone che ho conosciuto nelle precedenti ACS ordinata e ho conosciuto anche nuovi amici, nuovi fratelli nella fede. Abbiamo condiviso le nostre impressioni, anche le nostre difficoltà di fronte a questo strano momento in cui pare che non ci siano più freni alla deriva della Chiesa. Proprio eravamo oggi a Monaco di Baviera perché, come sapete, comincia il cammino, il cosiddetto cammino sinodale, voluto dalla conferenza episcopale tedesca, il cui presidente è il cardinale Reynald Marx, non perdiamo tempo a rionizzare troppo sul suo cognome, dove si propone principalmente di cambiare definitivamente la Chiesa, in una Chiesa mondana, secolarizzata, fondamentalmente succube del pensiero dominante, che il pensiero dominante non è quello che è l'anticristo, opporsi a Dio. Ho avuto anche il piacere, poi vi mostrerò la foto, di conoscere Alexander Tuzkel, spero di averlo pronunciato bene, il ragazzo che ha buttato nel Tevere la Pachamama. Davvero un carissimo ragazzo, gentilissimo, umilissimo, quando è arrivato ieri sera, perché ci siamo ritrovati ieri sera, venerdì 17 gennaio, per una cena fra di noi, così come anche oggi, dopo la conferenza stampa, abbiamo avuto il piacere di cenare insieme, noi membri della, noi che abbiamo partecipato all'Access ordinata, lui, dicevamo, Alexander è arrivato ieri sera, quando è arrivato è stato accolto, è stato riconosciuto, è stato accolto con una standing ovation, e lui non si aspettava questa accoglienza, si è girato, come a dire, ma a chi è rivolta questa, questa standing ovation. Insomma, oggi non c'era nessun nemico della Chiesa, e nessun nemico del Papa, e quando diciamo che non c'è nemico del Papa, perché un vero cattolico non può essere nemico del Papa, però ci sono cattivi papi, e che si fa in questo caso? Si resiste, si resiste, come San Paolo resistette in faccia a Pietro, e Pietro non era un cattivo Papa, è stato fatto santo dalla Chiesa, è stato scelto personalmente da nostro Signore Gesù Cristo, come suo primo vicario. quindi resistenza, resistere ai pastori che ci stanno guidando in un baratro, in un baratro, e noi in questo baratro non ci vogliamo finire, soprattutto dobbiamo fare di tutto per la nostra Santa Madre Chiesa, perché la Chiesa è la sposa di Cristo. Come dice sempre anche Dorotea, dobbiamo stare tranquilli, con serenità, perché Cristo ha già vinto, quindi anche c'è la sua promessa, non prevale, però non possiamo approfittare di questa promessa per dire che va tutto bene, che non è successo niente, che non sta per succedere niente, assolutamente no, noi dobbiamo fare la nostra parte, noi dobbiamo combattere per la Chiesa, perché senza la Chiesa le anime non si salvano, tutte le anime che si salvano lo devono alla Chiesa. Bene, io vi saluto, ricordo una cosa, che la patrona della Baviera è la Beata Sempre Vergine Maria, madre della Chiesa. Usciremo da questa crisi, la Chiesa non è sempre uscita, e vi usciremo quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, promesso dalla Madonna a Fatima. sia lodato a Gesù Cristo, laudetur Jesus Christus, Ave Maria, in nome del Padre, e del Figlio e del Spirito Santo. Amen.